Siamo con Federico Giannarelli di Radio Sportiva, ieri avete fatto il comprensione di 10 anni della radio, auguri in ritardo. Federico, parliamo già della partita di scorsa di Cagliari, una partita vincente, vantaggio pareggio sotto e parigiata 43, una partita giocata bene dallo spezza e un punto guadagnato. Ciao Patrizio, buonasera innanzitutto e grazie per gli auguri a Radio Sportiva, molto importanti perché è stata una giornata molto bella, l'abbiamo vissuta tutta ad un fiato con grandi ospiti e insomma è un traguardo importante per la nostra emittente nazionale che ha avuto un grande successo a un milione di ascoltatori al giorno, quindi è sicuramente un bel traguardo per tutti noi, ti ringrazio anche per averlo ricordato, ti ringrazio anche per avermi invitato in questa tua rubrica molto interessante. Volendo tornare, guarda, sulla domanda che mi hai fatto su Cagliari, ti dico che è stata una partita molto interessante, due squadre che hanno giocato a calcio, hanno mostrato di saper giocare a calcio, hanno mostrato di avere le qualità per provare a giocare secondo i dettami dei loro allenatori. È stata una gara con due fasi, con due tempi, un tempo per lo spezia, un tempo per il Cagliari. Ti dico sostanzialmente, per come l'ho vista io, credo che il risultato del pareggio sia giusto, perché il primo tempo è stato appannaggio dello spezia, ha avuto netto possesso palle, è passato in vantaggio, ha avuto le sue buone chance di giocarsi la partita. La seconda frazione è stata invece molto meglio per il Cagliari che ha avuto una scossa, ha fatto capire anche di avere alcuni giocatori come Joao Pedro, Pavoletti, ma insomma non li scopriamo oggi, giocatori in grado di fare molto molto bene in queste partite, credo che però alla fine il risultato giusto sia proprio il pareggio. Ecco Federico, nove giornate, ha già incontrato Sassuolo, Milan, Juventus, Atalanta e sotto le progetti da vincere erano Udinese-Bevevento. Questi due da vinte, ha parigiato con il Parma, però ecco un campionato avvincente fino adesso. Dici punti, forse non se lo speravamo neanche di averli. No, no, infatti anche perché ricordiamo insomma come è arrivato questo spezia alla Serie A, da ultima squadra, il 20 agosto con una preparazione praticamente inesistente, un mercato da inventare e tantissimi acquisti. Quindi diciamo che il lavoro che è stato fatto per ora da italiano è fantastico, è un lavoro pazzesco ed è un lavoro che ha portato una squadra ad essere veramente competitiva in pochissimo tempo. Dieci punti sono tanti, sono ottimi e sono un ottimo biglietto da visita anche per chi va a affrontare lo spezia adesso perché ricordiamoci di come era stata presentata questa squadra. La classica matricola, la classica formazione che era già data per spacciata a dicembre se non a gennaio, una squadra che tra virgolette non c'entrava niente in Serie A, invece sta dimostrando che non solo può starci in questa Serie A ma sa dare del filo da torcere anche alle squadre un po' più blasonate perché il pareggio con l'Atalanta non arriva per caso, è una squadra che stasera giocava la Champions o comunque in questi giorni giocava la Champions, non è un caso che si regge un'ora con il Milan, con la Juventus, con il Sassuolo pure alla prima. Quindi è una squadra questa che qualunque sia l'avversario va in campo consapevole delle sue qualità e consapevole che può dar fastidio a chiunque e senza nulla da perdere. Quindi assolutamente io credo che inizino a conoscerla anche coloro che magari erano un po' più scettici sulle vere qualità di questo spezia. E se voluto le due partite da vincere la vinte, Udinese per evento la vinte tu facci mente Sì sì, infatti due nette avversarie per la salvezza, c'è stata poi anche quella di Parma che insomma era una partita quasi vinta, l'abbiamo ricordato più volte, se non ci fosse stato quel rigore un po' ingenuo nel finale probabilmente staremmo parlando di altri tre punti, cioè di altri due punti in più. Quindi sì, diciamo che soprattutto nelle partite in cui non doveva sbagliare assolutamente, mi pare uno spezia che ha sbagliato ben poco fin qui. Ecco, parliamo anche di Italiano. Italiano ha fatto nove partite, ha cambiato nove formazioni, ha fatto giocare su 34 giocatori, 32 e alcuni anche molto decisivi. Molto bravo anche Italiano in questo campo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio ed è sicuramente il valore aggiunto di questo gruppo. Io sfido a trovare un altro allenatore, non dico solo in Serie A, ma in generale che riesce a far ruotare così tanti giocatori e a farli rendere tutti alla stessa maniera, perché non dimentichiamoci che questo spezia gioca all'unisono, va tutto nella stessa direzione, riesce sempre a suonare la stessa musica, nonostante gli interpreti siano diversi. Non è poco perché la rosa ampia, la rosa lunga, delle volte può essere un problema, specie se qualcuno rimane ai margini, specie se qualcuno fatica ad entrare nel gruppo. In questo spezia invece mi pare che tutti quanti abbiano le idee chiare e sappiano alla perfezione come entrare in campo, cosa fare e come affrontare le partite. Quindi Italiano sta tenendo tutti sulla corda e ha fatto ben capire che chi si allena meglio ha l'opportunità di giocare. Inutile che uno magari abbia il nome o magari abbia più esperienza in Serie A. Anche un Vignali, anche un Krapikas, anche lo stesso Bastoni, ragazzi che erano tutti indiziati ad andare via in estate, sono invece stati chiamati in causa e in qualche caso davvero sono assolutamente titolari inamovibili adesso. Ecco, ti voglio fare tre nomi, poi metti mi dirai Provedel, Maggiore, Bastoni e soprattutto anche Zorà, che da quando è mancato Garabino si è visto e anche l'altra punta del Lecce. Ecco, cinque giocatori molto importanti. Farias, sì. Ma sì, sì, sono giocatori. Allora, su Farias ti posso dire, a me è sempre piaciuto un sacco perché comunque me lo ricordo ad Empoli in cui aveva avuto quella stagione, poi l'Empoli retrocesse, se non ricordo male, tre stagioni fa e debbe quasi l'opportunità di salvarsi se non poi con quella partita con l'Inter all'ultima giornata in cui successe un po' di tutto. Ma Farias aveva fatto gol pesanti, aveva mostrato di essere, come sempre tra l'altro ha fatto, un giocatore ottimo per questa categoria e in grado assolutamente di fare la differenza se vuole. Sta entrando in condizione, sta capendo le mosse che l'italiano gli chiede e ha questo tocco, un po' da calcio a cinque. Non so se te ne sarai accorto in un paio di occasioni in cui gioca di suola, riesce comunque ad avere una visione un po' forse superiore a tanti altri che può fare la differenza in questo Spezia. Quindi Farias sicuramente me lo aspettavo, un giocatore che ha le qualità per stare in Serie A. Gli altri nomi che hai fatto, maggiore me lo potevo aspettare perché era uno dei pilastri di questo Spezia, aveva già convocazione nazionale ed è sicuramente un centrocampista che sta mostrando delle ottime qualità, non avevo dubbi che in Serie A potesse comunque dire la sua. Sugli altri devo dirti, Nzola è un calciatore che l'italiano ha voluto fortemente, lo Spezia ha voluto fortemente, è stata una sorpresa l'anno scorso in Serie B perché col Trapani faceva veramente fatica ad affermarsi e ha trovato in italiano e in questo gruppo veramente un ottimo modo di entrare nel calcio che conta e lo sta a dimostrare anche in Serie A, un fisico eccezionale e riesce assolutamente a dire la sua anche in Serie A. Insomma tre gol non sono pochi per un esordiente, ecco lo possiamo dire. Sugli altri Provedel è un portiere che aveva avuto un po' di sfortuna in precedenza, sempre in quell'anno a Empoli era stato Drongoschia a prendergli il posto a gennaio, ma è un calciatore che forse è stato anche un po' sottovalutato in queste stagioni perché lo avevano bocciato, gli avevano fatto fare della Serie B l'anno scorso in prestito alla Juve Stabia che poi è retrocessa. Invece insomma è un portiere che ha delle qualità indubbie e che sta mostrando davvero in Serie A di poterci stare e di soprattutto avere le qualità per stare in Serie A. Sappiamo bene che campione ti trovi ad affrontare, no? In Serie A da Ronaldo, insomma a Ibrahimovic, a tanti altri e non è male, non è male poter contare su un portiere come lui che si è fatto trovare pronto e che sta comunque dando il massimo anche in questo campionato. Ecco, oltre al campionato lo Spezza ha passato il turno contro i Bologna, un 4-2 però vedete come dicevete un migliore in campo ma anche un maggiore che è entrato e fa due gol. Eh no, infatti assolutamente, poi è vero che ci sono state molte rotazioni, ci sono stati poi tanti anche degli altri ragazzi che hanno giocato, maggiore tra l'altro veniva da questo recupero che un po' a livello fisico lo ha fermato, sappiamo le problematiche che ha avuto anche legate al virus ed è stato anche un po' sfortunato in questo inizio di campionato, però ha dimostrato di essere pienamente rientrato in forma, ha dimostrato di essere pienamente a disposizione e soprattutto, Patrizio, ti sottolineo un dettaglio che secondo me è fondamentale perché quando non c'è terzi o comunque quando in qualche modo si trova ad essere in campo senza un capitano prende la fascia, prende la fascia su di sé ed è molto bello vedere un ragazzo classe 98 di Spezia, un figlio veramente della nostra città che riesce ad essere anche un leader in campo e non è male, non è scontato perché è bello vedere che una squadra riesce a far giocare così bene i ragazzi che vengono dal proprio settore giovanile, che rappresentano proprio la spezzinità e in qualche modo riescono anche a far parlare di sé in Serie A ed è molto bello, guarda, ti dico, è una cosa che apprezzo molto anche questa scelta dello Spezia di valorizzare così tanto anche i ragazzi che arrivano dal suo settore giovanile e che hanno comunque avuto l'opportunità di mettersi in luce in questa prima parte di campionato. Maggiore, credo che abbia di fronte a sé una carriera radiosa e penso che debba stare in Serie A, la Serie B gli va stretta sicuramente. Ecco, parlando di Bologna, Bologna ha una partita 120 minuti però bella, vincente. Assolutamente, assolutamente sì, al cospetto peraltro di un avversario che aveva quasi tutti i titolari in campo, cioè probabilmente quelli che vedremo al picco tra l'altro nella prima in casa dovrebbero essere, non dico tutti e undici, ma quasi giocatori che sono titolari anche in campionato, quindi l'impresa ha valore doppio in questo caso perché lo Spezia ne ha cambiati undici su undici, quindi siamo di fronte comunque a una scelta di italiano importante che nel discorso che facevamo prima della grande capacità di adattarsi tutti a quelle che sono i dettami del tecnico non è male, non è male perché ti ritrovi con l'opportunità di battere una squadra titolare in Serie A, comunque una squadra di mezza classifica perché il Bologna è più o meno a metà classifica e quindi ti fa capire che anche con le squadre che sulla carta non lottano per la salvezza o comunque che hanno magari qualcosa in più rispetto alla salvezza, sono ampiamente alla portata di questo Spezia. Ecco, ti faccio le ultime due domande insieme. Sabato c'è la Lazio, perciò è una partita importante, però l'ospedale va increscendo, ha perso con la Juve e Milan, ma ha paricciato con la Taranta. Cosa può fare lì contro la Lazio? E soprattutto facciamo un bilancio di questa classifica bassa direttamente riguri, Sampdoria, Genova e Spezia. Allora, guarda, sulla Lazio ti dico, domani c'è questa partita, o stasera c'è questa partita con il Bruges che sulla carta non dovrebbe essere troppo impegnativa, diciamo, in Champions. Poi la Lazio ha quasi passato il turno, ma credo manchi solo una formalità. Però la domanda che mi pongo e un po' che mi tengo è se veramente la Champions possa togliere qualcosa a questa squadra, perché nei titolari è una formazione che è nettamente superiore, è una delle top squadre della Serie A e non lo scopriamo oggi, tra Immobile, Lucas Leiva, Luis Alberto, giusto per citarne un paio, Acerbi in difesa, tutti i giocatori che sono top player internazionali, lo possiamo dire. Dal punto di vista delle riserve, credo che qualcosa debba ancora migliorare la gestione di Simone Inzaghi e credo che forse non ci siano ricambi all'altezza dei titolari. Quindi magari un impegno così, che comunque è gravoso, che comunque ti porta via energie, perché c'è da inseguire un passaggio del turno, possa magari ripercuotersi un po' sul campionato nel momento in cui si torna a giocare. Sarà difficile che magari lo Spezia riesca a fare il risultato, un po' perché ancora una volta dovrà andare a Cesena e sappiamo quanto comunque non sia agevole fare tre ore e mezza di viaggio, la vigilia diventa molto più lunga, diventa più dispendiosa anche a livello di energie, e poi ovviamente la qualità tecnica, il tasso tecnico degli avversari è decisamente superiore. Quindi sicuramente non sarà una partita facile, questo sicuramente. Sull'altra domanda, il bilancio delle tre Liguri, ma un po' forse inaspettatamente, io ti dico che lo Spezia è quella che sta andando meglio, no? Al di là della classifica in cui la Samp è avanti, ma mi pare che per quanto offerto dalle prestazioni in campo della squadra d'Italiano ci sia molto da sottolineare rispetto a un Genoa che è apparso nettamente in difficoltà, che fa fatica, che non riesce a togliersi dagli ultimi posti in classifica e convive ancora da tempo con questi problemi atavici legati alla dirigenza, legati alla presidenza, legati adesso anche all'allenatore, perché Marane, insomma, sappiamo essere un po' in bilico, al continuo cambiare, a un mercato che spesso e volentieri dà una squadra incompleta. Quindi sul Genoa sono già due o tre da stagioni, se non di più, che il rischio della retrocessione è concreto. Sulla Samp è una squadra che è imprevedibile, una squadra che è imprevedibile perché Ranieri è un allenatore di grande esperienza, ha dei volponi come Quagliarella e come altri giocatori che ovviamente alzano il tasso tecnico, però è una squadra imprevedibile perché può vincere con l'Atalanta, come è successo, e poi magari perde malamente col Benevento, come è successo alla prima giornata in cui vinceva 3-1 e ha perso 4-3, quindi, insomma, o meglio, 2-1 e ha perso 3-2. Quindi è una squadra che è imprevedibile, ma intanto sono molto contento da Ligure, che tre squadre Liguri possano essere in Serie A perché non era mai successo. Sul resto ti dico che io credo che lo Spezia in questo momento sia proprio quella che fa più parlare di sé in positivo. Grazie mille. Grazie a te.